burloni siamo tornati finalmente in un nuovo video di marci insieme a marco oggi dove gara dei copiò chi è marco non lo so non mai sentire mai devi dire scusa oddio è già difficilissimo sono già fuori te lo dico allora angoli gialli e poi 3 3 3 3 ok spiace no no è facilissimo fidati è facilissimo è veramente perché sono lento quello mio problema è ok ma fidati qua il tempo qui il tempo c'è non ti preoccupare il tempo non esiste il tempo relativo ricorda te l'ho sempre detto eccola la frase del giorno ce l'abbiamo subito non ci posso credere marco ce l'ha tirata fuori subito allora 1 2 3 ho sbagliato qualcosa 1 2 3 1 2 e 3 vediamo se sono il primo 1 2 3 e qua no ma da morti secondo che manca un blocco e come da me a marco come da me anche un blocco verde ero copiato mi manca un blocco verde diamine no no marci e la banca giuro giuro su quello che vuoi seguire giusto no ma se vengo eliminato perché no è pazzisco panda burger era giusto uno di marco vi ho avviato bene a marco bravo bravo a volte quello ma io poi ho rotto un blocco me ne ha dati due quindi minecraft non me ne dava uno in più ah vedi oddio no marci io esco anche a coperti io esco se lo dico blu allora da quanti blocchi di distanza è ma stiamo scherzando aspetta era giallo aspetta qua era bianco sotto cos'era non mi ricordo più te giù non mi ricordo più aspetta aspetta sono nel panico totale sono sono nel panico più totale era verde sul blu vero? era verde sì 2 2 3 e poi blu poi facciamo così in teoria è giusto che in teoria è così raro marci non sì secondo me è giusto no però non mi ricordo se il bianco era sul bianco no il giallo era sul giallo il bianco era sull'handstone ok vediamo se ho fatto giusto no forse ho fatto sbagliato no marci non si capisce un tubo secco ho fatto sbagliato raga era da mettere più in alto l'handstone ho perso marco ho perso no 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 c'è uno che ha fatto peggio tra di noi marci non ti preoccupare ho provato a copiarti però anche tu eri nel panico 30% 50 mi è andata di fortuna totale yes 30% ho fatto io sto di asbirciarti con la optifine solo che se mi fai le cose sbagliate impazzisco te lo dico blu blu rosso verde gialla blu rosso allora blu blu rosso blu blu ok è abbastanza semplice ma è altro 2 sì penso di sì blu rosso rosso ok poi verde poi verde quindi così si è vero no perché c'era un in meno no perché questo andava più in qua marci che cosa mi combini mannaggia no io sto sbagliando oggi sto sbagliando non sono io raga dove sei? non sono io sei là vediamo ok ok quindi così ok 1 2 1 2 2 no ho sbagliato no ho sbagliato di un blocco no anche avevo sbagliato di uno io l'ho fatto giusto però no 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 è giusto no mi manca un cos avevo sbagliato di un blocco in lunghezza no no non ce l'hai fatta non ci credo io ho provato a copiarti solo che poi da lontano ti sento storto rispetto a me ma questo che cosa ci mettono pure storti come faccio a copiare azzurro verde giallo rosso azzurro verde giallo rosso e via ok azzurro ma sono anche azzurro verde verde giallo giallo rosso ok è abbastanza semplice qua no però se cado ok rosso ancora a fianco ti copi secondo me dici mi sta coprendo un po' tutti qua allora e poi questo dovrebbe essere no non è qua dove che va te lo vado a dire non è qua sì perfect match vai vai ma iali era quello che all'inizio diciamo sono uno youtuber no non lo so sai però se iali veloce iali no non ce l'ha fatta eh no non ce l'ha fatta il nostro promel promel ci saluta promel dove sei dove è promel dove è promel è il diagonale a te dove vedo aspetta ah via oh dio ma non ha fatto niente ma guarda che non era difficile questo qua eh sì no beh dai era da di marco questo vediamo eh vabbè questo è difficile è un golem è un 3x3 sopra è un 3x3 sopra è un 3x3 sopra ok è un 3x3 sopra ok così poi così e poi è un 3x3 1 2 3 così poi c'è la cosina qui la cosina qui e poi qua bisogna andare sotto di 2 di 2 qua va in avanti di 2 e poi non mi ricordo più come bisogna fare tipo era 1 così oddio non mi ricordo prova raga devo copiare da qualcuno per forza sì è alto 2 3 di stone largo 3 di stone largo quindi così no giusto poi bravo poi metti i pulsanti agli occhi e metti il bastone che era sotto da mettere non ho messo lì quanto ho fatto forse l'ho fatto meglio dell'altro l'ho fatto vediamo 90% te gli ali ve la giocate 90 uuuu ragazzi ragazzi sono in finale con eren 153 e happy guy lol che questo è tosto un primo in stand questo questo è veramente tosto però ok sopra c'è qualcosa ok vabbè facciamo così sappiamo che c'è un centro da fare che è così ok dovrei penso di starlo facendo giusto non penso di star sbagliando ok poi qui è in alto fino a che non va in alto semplicemente 5 5 poi qui è così non so se vai in fuori di 2 o di di 1 di 2 mi sembra di 2 si di 2 facendo così di 2 forse ce la faccio forse ce la faccio ok ce l'ho fatta raga bravo 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 ok il nostro amico dream è messo male non ce la fa non ce la fa non ce la fa non ce la fa vai dream vai dream vai dream no non ce l'ho fatta siete tu è happy gg va bene va bene va bene dai happy rendimi happy e fammi vincere oddio eh si provo a copiarlo raga gara dei copioni fino alla fine marco doveva copiarmi ma sto copiando io tutti erano lontani vado a fare cose sbagliate è 3 sui lati beh questo è semplice è abbastanza semplice dai questo è abbastanza è 3 sui lati ok 3 sui lati ok è 3 sui lati 3 sui lati 3 sui lati 3 sui lati qua facciamo un bel centro qui facciamo così è velocissimo questo chi l'ha fatto prima scusa non ho capito eh ma sei mai giusto qualche blocco questo oddio allora blu verde blu verde viola blu verde viola giallo blu verde viola giallo blu verde viola giallo blu blu verde viola giallo aspetta viola qual era questo è blu verde viola giallo rosso e di nuovo blu penso che fosse oddio non me lo ricordo 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 penso che fosse così windows veloce mi sta crescendo tutto ok E qua non mi ricordo cosa ci andava Il verde tipo Il verde Il verde Il verde Blu, verde, viola, giallo, arancione, rosso Viola No, ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto Ho sbagliato Lui l'ha fatto Anche lui ha sbagliato Eh, ma ne ha fatti più di me Ho perso 21% Ma come? Perché l'ho fatto troppo in avanti? Urca No, ma era giusto Ah, perché viola era l'altro GG Ragazzi, ho perso Ragazzi Volete un altro video delle Speed Builders? Lasciateci un mi piace Mi raccomando Importantissimo come cosa Un bacione a tutti Marco non mi ha copiato bene Ti rilancio la sfida per la prossima settimana Se i nostri fan vogliono Da Marciutto, ciao Ciao